bentornati sul canale ragazzi oggi vi riporto a pulire cose perciò senza perdere tempo corriamo subito a ripulire questo elicottero dei pompieri che a quanto pare è finito di faccia in un enormissimo cratere di merda ma ma noi siamo siamo pagati per ripulirlo ben fatto davvero ben fatto questo 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 gioco in generale ma questo elicottero è davvero fighissimo ma soprattutto posso ancora salire questo madonna che bello sali e perciò senza perdere troppo tempo iniziamo a ripulire questo oddio sembra quasi il pisello di il pisello di cosi di diesel se il cattivo di dragon ball ok ho già tutto equipaggiato perciò direi che è il momento di cominciare e goderci la pulizia di questo elicottero e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo. Ottimo. Beh, ragazzi, un lavoro che veramente mi ha tirato via almeno un'ora e mezza, ma fighissimo. Davvero fighissimo. Come prossimo lavoro abbiamo da pulire la villa del sindaco che, a quanto pare, sta un po' sul cazzo a tutti perché è piena di uova, merda, di piccione e vernice. Ottimo. Un sindaco molto molto amato. Ah, io devo pulire la casa da fuori? Boh, vabbè, ok. Iniziamo dal muro esterno. Ciao. 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 Bene, ragazzi, con quest'ultimo livello ci fermiamo qui e chiudiamo qui questa puntata. Grazie a tutti per essere rimasti qui e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti.